Ciao a tutti, vediamo in questo video 5 atteggiamenti da fan fatal che destabilizzano un uomo. In questo video voglio spiegarti quali sono 5 atteggiamenti che dovresti avere anche tu se vuoi diventare una fan fatal per destabilizzare un uomo. Ovviamente non tutti puoi averli perché alcuni richiedono del tempo, ma però puoi darti da fare. Intanto, prima di tutto, ti ricordo che di iscriverti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai partecipare a scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminar da vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso vediamo 5 atteggiamenti da fan fatal che destabilizzano un uomo. Allora, bene, il primo atteggiamento veramente da fan fatal che destabilizza un uomo perché gli uomini sono abituati alle malgascione bisognose, alle malgascione rompipalle, alle malgascione sempre che chiedono. Invece, un atteggiamento da fan fatal è quello di essere una donna incoraggiante, cioè una donna che riesce a alleviare, diciamo così, un po' dalla pressione sociale un uomo e ad aiutarli, incoraggiarlo a raggiungere i suoi obiettivi. Questo molte donne non lo fanno, fanno esattamente il contrario perché si pongono reattive agli obiettivi di un uomo, soprattutto obiettivi sociali, perché hanno questa vista miope che riguarda soltanto il proprio misero tornaconto, di avercelo un po' più a disposizione. Pensano che se lui ha successo, diciamo così, e quindi non ha molto tempo a disposizione, molto impegnato, non le prenderà in considerazione. Invece, e quindi cercano di contrapporsi, di mettersi a stili, di essere... Ecco, questo è... e per questo vengono fatte rimbalzare come delle trottole, cioè non vengono prese in considerazione. La vera fan fatale, invece, è quella che è incoraggiante, che quindi è quella che sa creare, diciamo, il giusto supporto. D'altra parte è importante questo, è il ruolo che una donna dovrebbe riuscire ad avere. Poi un altro atteggiamento destabilizzante molto è una donna con una cultura elevata, magari anche superiore alla sua. Allora, anche qua c'è un po' questo connubio, no? Per cui molte... non è che molte donne abbiano meno cultura, però... di solito manifestano, diciamo così, una dicotomia tra l'essere femmina e avere la cultura. Purtroppo, da un certo punto di vista, è un po' un dato di fatto, ma vale anche per gli uomini. Poi si può, al di là delle eccezioni, invece una donna, che sia donna con la D maiuscola e che abbia una cultura elevata, anche superiore alla sua, e che non deve essere uno scalza cagno, ovviamente lui, se è uno che ha la terza elementare al ceppo ci vuole poco, diciamo, però per dire, no? Quindi questo è destabilizzante. E destabilizzare vuol dire coinvolgere, perché... cosa vuol dire destabilizzare? Destabilizzare vuol dire diventare imprevedibile, da un punto di vista logico-razionale. Diventare imprevedibile, quindi seduttiva, perché è una fan fatal, diventa appunto fan fatal perché riesce a sorprendere un uomo, riesce a destabilizzarlo. Questo è il concetto di fondo, la destabilizzazione. Infatti un'altra caratteristica, la terza caratteristica di una fan fatal che destabilizza un uomo, è essere sia una leader, ma nello stesso tempo femminile. Spesso sono... questo connubio non si... non esiste. Ecco, la fan fatal riesce a farlo esistere. Cioè, per fare un esempio, la Merkel, che è sicuramente una super leader, diciamo così, non è... non è... non è... non ha femminilità. È tutta austerità, tutta austerity, ma poca femminilità. Invece una donna vera, fan fatal, abbina, diciamo, il sapere essere una leader, una capitana di industria, una donna, diciamo, che sa gestire, che sa essere una vera leader, un'amministratura delegato, una donna con grandi responsabilità alla guida di un'azienda, una donna manager, top manager, non manager della, diciamo, della macelleria da Pippo e Company, ma parlo di manager di grandi aziende, insomma. Comunque, una donna veramente leader. Oppure, che però abbina anche la femminilità. Ecco, questo è il fascino, la sensualità. Il quarto punto è essere sensuale, ma... ma non volgare. Cioè, una donna sexy ma austera. Questo è... anche questo destabilizza un uomo, perché l'uomo è abituato, diciamo, alla sensualona, diciamo, alla bambola gonfiabile, modello bambola gonfiabile, modello Jessica Rabbit, diciamo, no? Per dare un'idea. Ma è anche giocosa, bucolic, eccetera. Invece, una donna sexy ma austera che... Come dire? C'era una canzone di qualcuno, cioè, le calze con una riga nera, al tempo stesso sexy ma austera. Beh, destabilizzano gli uomini e lo affascinano molto gli uomini, lo affascinano veramente molto. E poi un'altra caratteristica, direi, fondamentale per una fan fatale che destabilizza un uomo è avere capacità di donna, quindi di essere, come dire, forte in società, quindi sapere essere attirante in società, sapere gestire, sapere essere una donna che sa cogliere, diciamo, tutte le opportunità sociali, ma sa essere anche femmina in privato. Femmina nel senso proprio di un po' come diceva quella canzone, un po' mamma, un po' porca, come... Questa è un'altra canzone. Però, ecco, questa è un'altra capacità che... un altro atteggiamento che va a destabilizzare un uomo e lo va a coinvolgere anche profondamente. Quindi cerca di sviluppare questi atteggiamenti da fan fatale, vai a studiare, fatti una cultura, cerca dei modelli, cerca di avere successo per te nella vita, di non essere dipendente, perché le fan fatale non sono dipendenti, non sono delle morte di fame, non sono delle donne che hanno bisogno di un uomo, ma sono delle donne affermate, di successo, donne che sanno, diciamo, che hanno una cultura anche elevata, hanno una capacità di interazione elevata, hanno un eloquio valido. Questa è la fan fatale. La fan fatale non è la fatalona, non è la bellona, diciamo, tutte... tutte tette, niente cervello. e non è neanche quella che crede di essere fan fatale, e poi invece è solo un ravat fatale. Il ravat fatale non... Il ravat fatale non fa testo, insomma. Se è un ravatto, detto in lingua, in lingua, in slang, in slang ligure, non attira, insomma. Quindi cerca di diventare una fan fatale, cerca di essere veramente una donna in grado, di essere una donna attirante, una donna d'eccezione. Questo è fondamentale. Devi essere una donna d'eccezione, una donna che trasuda femminilità da un lato, ma dall'altro lato trasuda anche cultura, trasuda anche capacità di, diciamo, di indipendenza, capacità di saper gestire al meglio la propria vita senza aver sempre bisogno, senza diventare sempre bisognosa. Ecco, questo è qualcosa di fondamentale nella vita. È fondamentale per essere una fan fatale, per attirare gli uomini e per conquistarli naturalmente, senza nessuna tecnica particolare di seduzione. Bene! Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra te i livelli di abbonamento, abbonamento base, con lezioni mirate, abbonamento top, con lezioni mirate e videoregistrazioni, seminario dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!